Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi porteremo alla scoperta dei tesori nascosti della Puglia, una regione che incanta con la sua bellezza e delizia con i suoi sapori. Non è stato affatto facile decidere cosa includere e cosa no. Possiamo dirvi con certezza che anche se molte località non sono state incluse, sono assolutamente da vedere, perché trasmettono le stesse emozioni, la stessa vivacità e la stessa voglia di vedere il mondo a colori. Detto questo, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per esplorare altre destinazioni italiane e nel mondo, lasciando un commento con le vostre esperienze preferite. Monopoli è una perla affascinante della costa adriatica pugliese, un borgo marinaro che incanta i visitatori con il suo fascino autentico e le sue bellezze storiche. Il suo centro storico è un labirinto di stradine strette, piazze accoglienti e antiche chiese. Passeggiare lungo le sue vie è come fare un viaggio nel tempo, ammirando gli edifici storici e le mura medievali che raccontano storie di secoli passati. La costa di Monopoli offre panorami spettacolari e scorci incantevoli per chi ama esplorare la natura incontaminata. A dominare il panorama c'è il castello di Carlo V, un'icona della città. Questa fortezza imponente testimonia la storia e l'importanza strategica di Monopoli nel corso dei secoli. Monopoli è un mix affascinante di storia, mare cristallino e atmosfera autentica. Una meta che incanta per la sua autenticità e il suo fascino mediterraneo. Per gli amanti delle escursioni, Monopoli offre la possibilità di visitare le bellissime grotte di Castellana, che si trovano a pochi chilometri dalla città. Non mancate di provare l'emozione che queste grotte hanno da offrirvi, con le loro affascinanti stalattiti e stalagmiti e altri gioielli nascosti nell'entroterra. Bari è una città vibrante e multiforme che si affaccia sullo splendido Mar Adriatico, un mix irresistibile di cultura, storia e modernità, che la rendono un luogo unico nel panorama della Puglia. Il centro storico di Bari, detto Bari Vecchia, è un labirinto di vicoli pittoreschi, piazze animate e tradizioni antiche. Qui si trova la Basilica di San Nicola, una delle chiese più importanti d'Italia che custodisce le reliquie di San Nicola di Bari, patrono della città. Il lungomare di Bari offre una passeggiata rilassante. Lungo il percorso si può ammirare il Teatro Margherita, un gioiello architettonico di inizio 900, situato direttamente sul mare. Il Castello Svevo è un'icona della città, una fortezza imponente che testimonia la storia medievale di Bari. Il Borgo Antico, intorno al Castello, è un affascinante intreccio di stradine, trattorie tradizionali e botteghe artigianali. Bari è un incrocio di culture, con la sua storia millenaria, la sua autenticità e la sua vivace vitalità contemporanea, regalando ai visitatori un'esperienza variegata e coinvolgente nel cuore della Puglia. Ostuni, conosciuta come la città bianca, è una delle gemme più affascinanti della Puglia, incastonata su una collina che domina la pianura circostante. L'iconica caratteristica di Ostuni è la sua architettura bianca, caratterizzata da case imbiancate a calce che brillano sotto il sole mediterraneo. Il centro storico, con le sue intricate stradine e scalinate tortuose, è un labirinto di vicoli pittoreschi, piazze accoglienti e angoli suggestivi da esplorare. La Cattedrale di Ostuni, dedicata a Santa Maria dell'Assunzione, domina la Piazza della Libertà con la sua facciata maestosa. L'interno barocco della cattedrale è una testimonianza dell'arte e della storia della città. Il punto più alto del centro storico offre una vista panoramica spettacolare sulla città e sul mare Adriatico. Questo punto di osservazione regala uno scenario mozzafiato, con un panorama che abbraccia le distese di ulivi e le acque cristalline. Ostuni incanta per la sua bellezza senza tempo, la sua autenticità e la sua atmosfera unica. Una tappa imprescindibile per chi desidera immergersi nella bellezza della Puglia e vivere un'esperienza autentica nel cuore della città bianca. Alberobello è un gioiello unico nel panorama della Puglia, celebre per i suoi trulli. Abitazioni tradizionali dal caratteristico tetto a cupola conico, che lo rendono uno dei siti più affascinanti e caratteristici della regione. Queste abitazioni, patrimonio dell'umanità UNESCO, formano il suggestivo rione Monti e il rione Aia Piccola, offrendo uno spettacolo unico con le loro strade lastricate e le strutture tradizionali. Alberobello vanta diverse chiese di interesse architettonico, come la chiesa di Sant'Antonio, con la sua facciata in pietra chiara e decorazioni barocche. La città è ricca di botteghe artigianali che offrono oggetti e souvenir realizzati in stile trullo, come ceramiche decorate e piccoli oggetti in pietra. Inoltre, è possibile gustare e acquistare prodotti tipici locali, come olio d'oliva, vino e prelibatezze gastronomiche. Il Salento, situato nella parte meridionale della Puglia, è una terra di straordinaria bellezza, caratterizzata da paesaggi mozzafiato e ricca storia che affascina chiunque la visiti. La costa salentina è rinomata per le sue spiagge incantevoli e le acque cristalline. Località come Punta Prosciutto, Torre dell'Orso, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Otranto offrono spiagge di sabbia bianca, calette rocciose e scenari da cartolina, ideali per godersi il sole e il mare cristallino. Lecce, situata nel Salento, è un gioiello in stile barocco. Vanta chiese imponenti e palazzi ornati. Il suo centro storico, conosciuto anche come Firenze del Sud, incanta con detta gli artistici e la maestria barocca, presente nelle sue strade. La costa di Santa Maria di Leuca è caratterizzata da scogliere frastagliate e faraglioni che emergono dalle acque cristalline, creando uno scenario suggestivo. Le grotte marine, come la Grotta del Diavolo e la Grotta Porcinara, sono un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle esplorazioni subacquee. Al culmine della punta si erge il santuario, dedicato a Santa Maria di Leuca, che offre una vista panoramica straordinaria e mozzafiato. L'architettura del santuario e il faro adiacente aggiungono un tocco suggestivo a questa località. Gallipoli è una perla incantevole che si affaccia sul Mar Ionio, situata nella parte occidentale del Salento. Questa città affascina i visitatori con il suo centro storico pittoresco, le spiagge incantevoli e la sua autenticità salentina. Il castello di Gallipoli domina la baia e testimonia la storia difensiva della città. L'architettura storica della città include anche la chiesa di Sant'Agata, condetta agli artistici e decorazioni barocche. Un gioiello da visitare assolutamente è Grotta della Poesia. Una meravigliosa piscina naturale situata a Rocca Vecchia, tra San Foca e Torre dell'Orso. Si tratta di una piscina incastonata nella roccia, caratterizzata da uno specchio d'acqua color smeraldo e dalla piacevole sensazione di refrigerante sulla pelle. Il Salento è un luogo che incanta per la sua autenticità e la sua bellezza, regalando esperienze indimenticabili a chiunque si avventuri tra i suoi tesori nascosti. Il Salento è un luogo che incanta per la sua autenticità, Le polpette di pane sono di tradizione casalinga e nascono dall'economia domestica antispreco, tipica delle mamme e delle nonne nelle regioni meridionali. Il pane raffermo viene fatto a mollare nel latte con l'aggiunta di uova e prezzemolo o altre erbe aromatiche. Diventano un ottimo aperitivo, da mangiare mentre si aspetta di pranzare, ancora grondanti di olio, in quanto sono rigorosamente fritte per donare croccantezza e gusto. Le polpette di pane pugliesi sono un piatto semplice ma ricco di sapore, un'autentica delizia della tradizione culinaria pugliese che incanta con la sua semplicità e bontà. I taralli sono uno dei simboli della gastronomia pugliese, croccanti e saporiti. L'ingrediente fondamentale di questo delizioso snack senza tempo è senza dubbio l'olio extravergine di oliva che dovrà essere di altissima qualità. Dall'olio dipende la fragranza del tarallo, che poi dovrà essere friabile, ma senza ridursi in briciole al primo morso. L'impasto per i taralli viene preparato mescolando la farina, l'olio d'oliva, il vino bianco, il sale e il pepe. I taralli sono amati per la loro versatilità, sono perfetti come snack da gustare da soli, ma anche ottimi se accompagnati da formaggi, salumi o un buon bicchiere di vino. Sono spesso presenti nei cestini del pane durante i pasti, soprattutto nelle tavole pasquali o nelle feste tradizionali. Le orecchiette sono una pasta tradizionale della cucina pugliese. E come tradizione comanda, le orecchiette vengono preparate a mano. La pasta viene ottenuta mescolando semola di grano duro con acqua per formare un impasto compatto. Questo impasto viene poi modellato a mano, prendendo piccole porzioni di pasta e utilizzando un coltello o le dita, per creare la forma caratteristica dell'orecchietta, in cui la parte centrale è più spessa rispetto ai bordi. Uno dei piatti più iconici della cucina pugliese sono le orecchiette con le cime di rapa. La preparazione delle orecchiette è spesso considerata un'arte tramandata di generazione in generazione, praticata dalle donne in casa. La loro forma caratteristica e la loro capacità di trattenere i condimenti le rendono un piatto iconico e molto apprezzato, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. La Puglia è una terra che incanta con la sua bellezza, la sua cucina deliziosa e le sue tradizioni avvincenti. Dalle coste incantevoli alle città ricche di storia, ogni angolo di questa regione è un invito a esplorare e scoprire. Se avete amato questa avventura attraverso i luoghi incantevoli e i sapori unici della Puglia, assicuratevi di iscrivervi al canale per non perdere altre avventure culinarie e viaggi alla scoperta delle meraviglie italiane. E non dimenticatevi di lasciare un commento con le vostre esperienze o domande, perché la bellezza dei nostri viaggi assieme è ancora più ricca quando condivisa e raccontata tramite voi. Grazie per aver preso parte a questo viaggio. Vi aspettiamo alla prossima avventura! Grazie a tutti! Grazie a tutti!